La mia prima Olimpiere è la mia prima esperienza olimpica e sono felicissima per far parte della squadra italiana perché sto lavorando tanto e cercherò assolutamente di raccassare la vita. Sono molto credente e mi raccordo un po' una terza di grado e questo mi dà una speranza anche quando le cose non vanno bene e di avere piena fiducia nel percorso nazionale che mi ha preparato e quindi tanto lavoro, tanta fiducia e adesso sono qui ma è solo un mio inizio. Io suggerirei di non mollare mai, di vederci sempre e di vederle a se stessi perché è la prima cosa e la cosa più importante e di lavorare, di lavorare tanto e di cercare di ragionare i professori. Ciao a tutti ragazzi, sono Pierpaolo del Pentano Moderno e andiamo a Rio per dare il meglio di noi e speriamo che vada bene, fateci un augurio. Sicuramente è un evento pazzesco, come ricordava il vice sindaco è il più grande evento del 2016 sportivo naturalmente, siamo molto emozionati, per lei è la seconda, per me è la prima quindi speriamo di fare molto bene. Le sportative la cosa migliore sarebbe portare noi stessi lì, se portiamo noi stessi siamo avanti con il lavoro. Nel momento di difficoltà pensi a tutti i sacrifici che hai dato durante l'allenamento pensi che a un certo punto questa difficoltà passerà, non la guardiamo la difficoltà, andiamo oltre. Fateci il tifo, siete vicini a noi, siete vicini a noi a Rio. Grazie a tutti.